benvenuti yogis in questo video di meditazione volevo mostrarvi due tecniche semplicissime sono necessari davvero pochissimi minuti e sono adatte per i principianti e per chi davvero è sempre costantemente distratto sono davvero molto semplici io utilizzerò questo cuscino da meditazione a forma di mezza luna in modo tale da potermi sedere sul bordo di esso questo serve semplicemente a tenere la schiena più dritta altrimenti va benissimo un cuscino normale sempre sedendoci sul bordo oppure è una sedia cui possiamo appoggiare la schiena sullo schienale rimarrò in questa posa per qualche minuto quindi trovo la mia centratura e trovo una posa confortevole in cui posso chiudere gli occhi ignorare i gatti che sono intorno a me no da ignorare no sono così carini soprattutto se sono ciccioni come il mio vabbè e concentriamoci inizia semplicemente a portare l'attenzione sul respiro ispirando dalle narici ed espirando sempre dalle narici essendo la mia colonna ben dritta posso immaginare come se ci fosse un filo dorato immaginario che dalla base del mio bacino percorre tutte le vertebre e fuoriesce dalla sommità del capo qui posso davvero rilasciare tutte le tensioni nelle spalle e nella mascella negli zigomi nelle palpebre e porto una mano sulla pancia e l'altra sul petto ascoltando il ritmo del mio respiro quando inspiro si gonfia la pancia e poi il petto e quando inspiro il petto si sgonfia e si sgonfia anche la mia pancia creando come un'onda un'onda del mare in movimento il respiro energia e l'energia fluisce nel nostro corpo e resto qui tutto il tempo che mi serve semplicemente a respirare e a connettermi con questo movimento naturale che spesso nella frenesia quotidiana lo perdiamo posso portare le mie mani in un mudra questo è il cin mudra unisco pollice indice mi connetto con il tutto io sono parte di un tutto e se insorge qualche pensiero lo lascio andare con l'espirazione se siamo scomodi seduti o se non è proprio nelle nostre corde possiamo sdraiarci questa meditazione possiamo farla anche a letto prima di sfrumentarci oppure appena svegli la mattina rilasso tutto il mio corpo al pavimento o al letto e anche qui porto l'attenzione sul respiro e percepisco tutto il perimetro del mio corpo aderente al pavimento a partire dai talloni le gambe i glutei i fianchi le braccia le mani le spalle la nuca fino alla sommità della nostra testa il mento è leggermente rivolto verso il petto in modo tale da rilassare la cervicale e osservo il mio respiro scorrere nel mio corpo ossigenare ogni centimetro ogni cellula e anche qui se insorge qualche pensiero lo osservo non lo ignoro non mi giudico ma una volta osservato lo lascio andare e mi riporto gentilmente nel momento presente in questo stato di completo rilassamento il respiro è lungo profondo e mi rilassa sia nel corpo che nella mente quando mi sento pronto inizio a muovere le estremità come se mi stessi risvegliando da un lungo sonno muovo i piedi le mani i polsi un po le ginocchia e quando me la sento piego le ginocchia mi porto in posizione fetale sul lato destro molto lentamente seguendo i miei tempi e da qui resto ancora qualche istante a respirare a lasciare andare e una vertebra alla volta lasciando la testa per ultima quindi prima srotolo tutta la schiena e per ultimo le vertebre cervicali una alla volta e apro gli occhi grazie per aver meditato con me namastè alla prossima grazie grazie